Difficile lo era già e adesso è tutto ancora più complicato. La Virtus Matino si arrende alla Mariglianese in terra campana. 1-0 il punteggio finale in favore dei padroni di casa. Pugliesi che rientrano dal Santa Maria delle Grazie senza punti e con il rammarico dell'autogol di Prete che ha deciso il match alla mezz'ora del primo tempo. Parte bene la Mariglianese. Al settimo Micillo trova Marzano in aria che si gira bene e calcia. Leuci è reattivo. Al decimo risponde Stauciuk. Tiro però facile preda per Maione. I campani ci provano su punizione dal limite al ventunesimo. Aracri manda al lato di poco. Alla mezz'ora Prete di testa trova la sua porta. Nel tentativo di spazzare il pallone la Mariglianese festeggia così il vantaggio. Prezioso in ottica salvezza. Non succede nient'altro sino all'intervallo e 1-0. Nella ripresa si rinnova l'offensiva dei padroni di casa e al cinquantaseiesimo ci prova Esposito pescato in aria. Tentativo terminato con la presa di Leuci. Al sessantacinquesimo ancora Esposito trovato in aria. L'attaccante Campano di testa manda alto. Il mattino non riesce a reagire e la Mariglianese prova a chiudere i conti. Al settantottesimo i padroni di casa protestano per un presunto fallo in aria su Aracri. L'arbitro lascia proseguire. Poco dopo Esposito scatta in posizione regolare e si invola verso la porta salentina. L'attaccante tuttavia non riesce a superare Leuci. Chance mancata così come accade ad Aracri all'ottantasettesimo. Gol divorato dalla zona del dischetto. La Virtus Mattino prova a scuotersi all'ottantanovesimo. Morra prova a superare Maione col Mancino. Il portiere Campano para in due tempi e anticipa l'arrivo di Palmisano pronto ad approfittarne. Finale concitato. Al novantesimo Tagliamonte manca una doppia opportunità. Prima Leuci esce bene, poi la difesa salentina fa muro sulla conclusione del neoentrato tra le fila campane. A pochi istanti dalla fine l'occasione più ghiotta per i ragazzi di Mister Branà. Azione insistita conclusa con la botta di Prete che sfiora la traversa. Finisce così 1-0 il match salvezza. Mattino che tornerà in campo fra dieci giorni, il 24 aprile, nella gara casalinga contro la Nocerina. Mattino che tornerà in campo fra la notte che sfiora 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 la not